Ciao a tutti, il mio nome è Saga e sono lo specialista di prodotto qui in LG. In questi video tratteremo gli argomenti principali alle vostre domande più frequenti. Oggi vedremo come collegare Alexa alla tua TV LG. Assicurati che la TV sia collegata al Wi-Fi. Per verificarlo, prendi il telecomando e premi su Impostazioni, scorri in basso fino a Rete, e qui vedrai tutte le connessioni attive disponibili. Premi il tasto Home sul telecomando e seleziona l'applicazione Alexa. Scansiona il codice QR visualizzato usando il tuo cellulare o tablet. In alternativa puoi connettere il tuo account Amazon visitando il link sullo schermo. Segui le istruzioni sul sito web di Amazon. Per completare il processo, il controllo vocale di Alexa è ora disponibile. E la TV è pronta per essere aggiunta ai gruppi dei dispositivi o alle stanze, tramite Alexa. Apri l'applicazione Alexa sul cellulare o tablet. Nella parte inferiore del tablet o dello schermo del cellulare, premi su Dispositivi. Il simbolo più nella parte superiore dello schermo, ti darà delle opzioni per creare nuove stanze o gruppi di dispositivi. L'app ora ti chiederà quale dispositivo desideri configurare. Scorri l'elenco verso il basso, o cerca semplicemente LG TV dalla barra di ricerca. Alexa ti consiglierà di scaricare l'app LG Tinkoo. Questo consentirà ad Alexa di comunicare con la 1, di Tinkoo, che è integrato nella TV. In modo da poter controllare la tua TV LG tramite un altoparlante Alexa. Se non sei sicuro di come farlo, guarda il nostro video dimostrativo sulla TV e l'applicazione LG Tinkoo. Una volta che hai configurato LG Tinkoo, premi abilità sull'app Alexa, per completare la connessione. Ecco fatto! Ora sei pronto! Per ulteriore assistenza trovi tutte le informazioni sul nostro sito. Grazie per la visione! Grazie per la visione!